o la lucia d'ores e cacciatori di dita nelle prese della corrente ben ritrovati dal vostro cacciatore silver che vi deve chiedere scusa perché ha combinato un casino ci eravamo lasciati nella stanza del piano superiore e praticamente avevo fatto il video dove cominciavo ad affrontare quella stanza e ho dimenticato di salvare il video cioè ho dimenticato ho sbagliato a schiacciare e il video non l'ho salvato l'ho cancellato anziché salvarlo quindi anziché fare un montaggio ho provveduto sapidamente a cancellarlo a non salvarlo quindi la brutta notizia dove sta sta nel fatto che su abbiamo scoperto cose allora innanzitutto mi libero dei topi che non sono essenzialmente esserini piacevoli con cui avere a che fare però ho scoperto appunto che non avvelenano ok perfetto scoperto anche che mi dimentico sempre di guardare la stamina e faccio un attacco di più allora come vedete la c'è la tizia che prega e i miei echi del sangue c'era l'altra tizia la cacciatrice in parte qui quella era riuscito a scatafotterla ma ho scoperto che non rispona quindi voi vi perdete la boss fight la mini boss fight perché è difficilissima ed estenuante ci avevo messo tipo otto minuti per sconfiggere solo quell'altra con questa che mi rincorreva tirando incantesimi ho usato un elisir di piombo inutilmente fra l'altro perché questa questa praticamente il vizio insano e strano di tirare roba come se piovesse ok mai il problema di di ste ciccine è che sono drammaticamente veloci però il vantaggio della dell'arena è che abbiamo davvero un sacco di ripari se usati in modo corretto ecco mi dispiace che giustamente metà di quello che poteva essere questa simile boss fight lo sputtanato per un errore mio che ogni tanto capita no e molto buona devi stare ecco giocare dove c'è meno spazio a volte da appunto il vantaggio che abbiamo la possibilità di tieni la locata che magari vedi quello che fa perché sentirlo è utile ma vederlo è meglio ok mai io ce l'abbiamo fatta fico fico droppi qualcosa si 10 proiettili mercurio cioè avevo fatto fuori 10 fiale di sangue precedentemente bene ok perfetto allora prima di andare avanti volevo dare una sbirciata alla zona perché oltre a sembrarmi molto simile all'arena dove combattiamo col vicario amelia ma non lo è perché l'altare lì è chiaramente differente e poi vedendo le catene è un ascensore anche perché qui in teoria se quello non fosse un ascensore si bloccherebbe tutto non abbiamo altre vie plausibili salvo che il tizio nella cella da basso abbia qualcos'altro da dirci dopo che abbiamo sconfitto queste cacciatrici ma dubito abbiamo scoperto che molte questa è già la seconda che troviamo nel dlc e presumo che la prima sia la stessa che troviamo nella realtà del gioco normale queste tombe che coprono passaggi segreti quindi queste questi catafalchi bisogna vedere se sono catafalchi reali dedicati a qualcuno o se sono identici e nascondono solo tombe perché è probabile che il cadavere sui catafalchi sia sempre lo stesso avremo occasione di indagare la cosa queste cose mi interessano un sacco qui come abbiamo detto è una sorta di lazaretto di parte elevata del dell'officina della cura e abbiamo trovato la saggezza di un grande essere su questo cadavere il che vuol dire che qui vengono fatte delle ricerche libri ci si sente un filino pervasi dalla sensazione che qui sia vicino il contatto con i grandi esseri il primo contatto qui abbiamo un altro tipo di ok facevo tanto l'analitico e poi scopro qualcosa di interessante adesso ci arrivo abbiamo esseri senza volto con nelle statue perché non hanno il volto vedete che non hanno la faccia una campana simbolo d'evocazione un libro e questo essere con un elmo scusa copre gli occhi come quello del coro fico elmo che fra l'altro io non ho ancora perché non ho provveduto recuperare ma smettiamolo di cincischiare vuoi vedere che adesso ci scateniamo un'altra boss fight perché non c'è mai da stare sereni in bloodborne mai sono cose belle che ti fanno sentire una persona migliore in momenti peggiori no attiviamo solo l'ascensore ma non c'era la leva a giusto la leva è per richiamarla poi questo è per attivarla certo un ascensore un filino più sobrio avrebbe necessitato di meno catene dove cazzarola andiamo a finire il discorso è che più si sale e più cos'è o salve stavo dicendo più si sale più il campo d'azione si restringe perché le vie di ritorno sono inferiori sono armi di qualcuno quelle cose o ok no qua il monocolo è trattato come un oggetto giusto per lo no c'è solo un tubo cerbero a cui esploderà la testa sapidamente ok ce n'è uno là sotto ciao bene vabbè posso anche smetterla di esplorare tu di solito sei una fregatura che uno caga questa e poi non si accorge delle altre cose pezzo di pietra del sa very good e si necessita di tornare anche al sogno del cacciatore ok ma non è da uccidere non ci puoi neanche dialogare però si veleno merdaccia merdaccia no 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 fermati fermati ok abbiamo fatto incetta eh allora questa si apre no chiuso a chiave abbiamo più porte chiuse noi che chissà chi la domanda è ci sono elisir blu ok finiamo di spezionare il livello basso laboratorio primo piano non si apre da questo lato quanto è grande sto cazzo di posto sarà sarà un incubo ah 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 eh scusate la domanda quello è il cadavere di prima è rimasta la sì è rimasta la bestiola bene dannatamente bello ah nel frattempo intanto che mi ricordo volevo ringraziare tutti quelli che di voi mi stanno dando delle dritte sul gioco eh specialmente in questo momento anche a Raegal che mi ha suggerito di potenziare il Saif dicendomi che è un'arma molto potente eh devo farmare i pezzi logicamente voi quando mi date le dritte tenete sempre presente che non posso rispondervi immediatamente perché io i video magari li faccio un giorno ne faccio quattro poi li carico in quattro giorni diversi allora io non so quanto male voi facciate ma giuro non lo voglio scoprire siete tanti siete troppi e cominciano a crearsi i bivi aia sei veloce quindi non è tanto il male che farai eh sti cazzi eh sti cazzi no ritratto è anche il male che fai e il perché me lo fai cosa ti ho fatto cosa ti ho mai fatto figlio di puttana e non droppano nulla solo tante anime ed è un posto dove può essere anche valido farmare allora qui abbiamo una porta ok poco rassicurante e un pianerottolo quanto mi ricorda gli archivi del duca questa cosa fanculo sala dei genti secondo piano ok quindi qui sarà infestato di genti poco raccomandabili e lì c'è un un oggetto un messaggio un qualcosa un qualcunché ecco che odio quando con l'ultimo attacco non li finisce entrambi e ti ritrovi le brutte cose che situazione di merda ok ah ti dà fastidio il rumore sti cazzo bene 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 ok sono delle brutte sensazioni da questo posto credo che forse faccio meglio andare a comprare un gelato e andavo a farmi cazzire da qualche altra parte ecco adesso sto provando il forte impulso di recuperare i miei chini del sangue e andarmene spupazzamente a spendermeli nel come si chiama nel sogno del cacciatore in effetti abbiamo bisogno di un'arma un filino più veloce io sono abituato alla spada di Ludwig sono abituato che con lo spadino è tanta roba e sono abituato anche alla sega dentata che è decisamente più veloce dell'ascia e non lascia e non lascia spazio alla risposta degli avversari ma quante ne so ma quante ne so vediamo di andarcene di qua e sperare che il tizio con i miei echi del sangue sia rimasto da queste parti no e ma perché? perché devo farmi fare del male così gratuito? almeno mi pagassero no il tizio con i miei echi del sangue non è qui arriverà? i miei echi del sangue sono rimasti qui? no no ok si vabbè ok che cazzo sei un mulinex bene cerchiamo di allontanarci un attimi sloccati madoncina quando il lock serve non c'è mai quando non serve ne sei pervaso io non vorrei giocare per forza troppo safe ma ragazzi i miei questi fanno veramente male oh basta che corrono io continuo intanto a non vedere i miei echi del sangue ok non arriva nessuno chi è che urla e fa casino allora questa sarà l'uscita desumo perché non ci sono i miei echi? che schifuz ci mancava il larvacoso che è praticamente uno di questi che si è estruso dal proprio corpo ma è sceso? no quindi è ancora qui tizio io ho paura delle imboscate da ste parti io l'ho detto che me la sento che uno di questi cosi uscirà dal proprio corpo non so chi abbia tirato cose e vabbè lo sospettavo che sarebbe successo ma merda fanculo e via lui via lui ok 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 va molto meglio così paura pollo fifo vediamo se no esci da questo corpo porca trota ancora mi viene da piangere no devo provare a usare l'arma come un mullinex oppure potrei provare vabbè però fa poco danno non l'ho potenziata quindi fa poco danno sto riflettendo fra me e me che forse la sega circolare potrebbe essere la soluzione migliore e di nuovo andiamo a recuperare i nostri dannatissimi ecchi del sangue se ce la facciamo con l'intento di spenderli perché vi ho sempre detto che non mi interessano ma quando cominciano ad essere attorno ai 50.000 va da sé che schifo non fanno la cosa affascinante è che ho notato che finora questi tizi continuano a non droppare una beremerita svergia di nulla sono troppi e questo ci fa pensare che di nuovo il rush potrebbe essere la soluzione drammaticamente migliore la situazione ricorda molto quella dei tizi dell'aulamagna gli esseri di mercurio che sono dannatamente tanti ok benissimo apprezzo molto il fatto che tu mi stia venendo incontro ad agevolare la mia situazione cerchiamo di andarcene qua sulle scale e semplificarci la vita semplificarci la vita ho detto non a farci ammazzare vanno oh certo fantastico attacchi anche di testa allora sono molto più veloci di noi sono di due tipologie diverse e non me ne ero accorto fino ad ora non me ne ero assolutamente scusate mi sono picchiato il microfono ho fatto un casino in mondo hanno due velocità diverse gli attaccanti qui tu sei un figlio di buona donna vieni qua dai evolviti dal tuo essere merda ok vai perfetto abbiamo la gittatina un filino corta allora ah ok eh vabbè speravo 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 di attirarti e invece no allora ok ah escono dai muri escono dai muri e ricordiamoci sempre che i muri sono brutte persone allora vediamo se riesco allora l'intento sarebbe quello di rallentarne un paio per poi cacciarsi nei guai con più allegrezza perché poi sapete che il silver non disdegna il rush quando è il momento giusto però prima bisogna vedere se la cosa è fattibile no 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 ehi ehi molto buoni dovete stare porca cazzozza neanche neanche si stordisce sto coso sono la metà di mille e io ho sempre paura che ne siano eh esatto eh esatto raga avete caccato la minchia ve lo dico apertamente queste sono quelle zone dove quando ci arrivi speri di non doverci tornare mai più e ce n'è ancora ce n'è ancora ce n'è ancora ah santo pelo sedativi quindi è incipiente lo status follia per un qualsivoglia motivo fico non vedevo l'ora guarda vediamo se ha un senso cercare di scattafotterli no via ehi molto buono via 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 corri 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 lo so so essere odioso quando mi metto a giocare così infatti me l'avete anche detto che sono fastidioso e basta fanno un danno della malora fanno fastidio fanno paura fanno rumore tirano roba fanno casino è un manicomio sto posto abbiamo abbiamo visto appunto posti di ogni genere ecco io speravo che ci fosse anche qualcosina qui di interessante non ce n'è uno che abbia droppato niente posso sapere di grazie a chi è questo che strilla che io speravo di averli ammazzati tutti però il suono lo sento più lontano una scala che sia una pessima scelta è assodato certo giusto giusto scemo io che non ci avevo pensato uno armato ci mancava no? sono gli stessi tavoli della clinica di Iosefka certo perfetto perfetto e io sto a guardare i tavoli va bene con l'ennesima figura di merda del vostro amico Silver noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo episodio che mica voglia ok la smetto di piangere alla prossima ragazzuoli cosa di nuovo? era un po' tra